Il gas metano liquefatto viene compresso in bombole per l'esercito. Il gas metano liquefatto viene compresso in bombole per l'esercito. Il gas metano liquefatto viene compresso in bombole per l'esercito. E gli amatori invidieranno il disegno di De Chirico. Oggi intorno a Ricoli e ai suoi cocktails si raduna l'almanacco di Cota delle miscele spiritose, Giorgio del Continental, e Marino di St. Moritz e Ugo del Piccolo Bar, artisti in grado di apprezzare le sapienti ricette del collega. Rodolphe del Giorgio Quinto di Parigi offre l'attestato d'amicizia, simbolo di solidarietà, il barbone della signora Maia. Il Conte Spalletti ha promosso l'incontro. Rodolphe ancora è Gautier del Crion di Parigi e Félix Cotto del Chattano. Felice simposio dove l'amabile e il secco sono ugualmente piacevoli.